Ok, allora abbiamo qui il global field e il your field. Andiamo a vedere un attimo di fare un refactor un attimino della home page, in modo tale che abbiamo due pagine separate. Quindi andiamo nella nostra home page qui abbiamo la home page, abbiamo la lista degli articoli però e nei componenti abbiamo il post preview. Andiamo qui a creare una nuova, diciamo due nuovi componenti. Uno sarà il global feed e l'altro sarà il your feed. Anzi, forse... ma aspetta un attimo, no, facciamo prima un altro passaggio, va? Facciamo un altro passaggio prima di far questo che è magari un po' più complesso e lo vediamo dopo in un secondo momento. Che dite? Facciamo subito questo? Sì, dai. Facciamo subito questo. Dividiamo questi due tab, ok? Your feed e global feed. Quindi andiamo a creare qui due componenti, ci portiamo, ci semplifichiamo la vita andiamo a crearli direttamente con il terminal. Quindi andiamo qui, andiamo in app, andiamo nelle pages e qui abbiamo la nostra home page. Qui andiamo a creare, andiamo nei... dove siamo? Ok, andiamo dentro components, andiamo a creare ngc global feed. Sempre facendo skip test. E poi generiamo anche il componente... com'è che si chiama? Your feed? Your feed. Meno o meno, skip test. Quindi abbiamo creato questi due componenti. Questi due componenti, sulla base della path, andremo a vedere o uno o l'altro. Questa è una specie di tab page, in questo momento non funziona. E vogliamo però che sulla base della path si muova uno o l'altro. Quindi andiamo a fare un attimino un refactor della home page. Quindi qui abbiamo... Qui abbiamo your feed. Questo è quello che lo attiva. Questo è global feed, ok? E questo sarebbe... vediamo un attimo... Questo qui sarebbe global feed. Quindi questo dovremmo portarlo fuori e metterlo dentro global feed. Qui cancelliamo. Ovviamente dobbiamo spostare tutto il codice del relativo agli articoli. Quindi questo lo dobbiamo portare fuori. Lo mettiamo qui. Qui ovviamente dobbiamo importare un po' il tutto. Importiamo articoli. Poi... Qui dentro abbiamo i taglist. Per il momento... Allora, questo serve anche di qua, quindi lasciamolo. Per il momento i taglist li lasciamo qui. Ok. Qui l'NG on init ci serve anche dall'altra parte. Quindi... Facciamo questo. Implements on init. Dobbiamo... Dobbiamo... Ci serve anche article service. Eccolo qua. Lo definiamo qui. Il take until... Allora importiamo tutto. Ecco qua. Il destroy ref ci serve per... Del sottoscrivere il tutto in maniera agevole. Importiamo anche questo. Quindi adesso su global feed abbiamo il tutto. Sulla nostra home page... Se qui... Adesso salviamo il tutto... Non dovremo più vedere nessun articolo. E infatti vediamo soltanto i tag. Quindi avevamo tolto via da qui... App... Global... Feed... Ovviamente... Ovviamente dobbiamo importare il componente che è uno stand alone. Salviamo il tutto. Ok. Ci dice che bisogna importare anche il post preview. Noi lo andiamo a importare. Salviamo il tutto. Perfetto. E abbiamo di nuovo il nostro global feed. Però... Vogliamo fare in modo che dalla home page... Se io vado... E qui ci scrivo global feed... Vada su global feed. Se invece scrivo your feed... Vada su your feed. Ok. Dobbiamo gestire... Questo tab page... Diciamo questa specie di switch. Come facciamo? Andiamo di nuovo nel nostro routes. Eccolo qui. Cosa definiamo? Andiamo qui... E definiamo... Qui... Ad esempio... Da notare l'ordine. Ok. Perché l'ordine è importante... Quando Angular va a vedere il match del path... Per identificare qual è il componente da andare a caricare... Va in ordine. Alla fine abbiamo messo questo asterisco asterisco. Quindi significa... Se non trovi nessun path... Fai un redart su sign in. Ovviamente mettendo questa barra... Così in non page... Non succederà nulla perché... Questo prende già un path vuoto. Ma se metto qualcos'altro... Anzi andiamo a farlo... Proprio una prova. Qui ci mettiamo... Tipo... Automaticamente a fare un redart su sign in. E li andiamo ad assegnare. Allora noi vogliamo... Che vada sull'home page... Ma poi su global feed. Che facciamo? Andiamo su... Home page. E qui andiamo a creare un nuovo file. Che andremo a creare... Che chiameremo... Come routes.homepage.ts. Quindi definiamo... Siccome sono dei routes della home page... Andiamo a definire dei routes... Solo per la home page. Per la gestione della home page. Quindi qui facciamo un export cost... Routes.homepage. Due punti. Routes. Come abbiamo visto... Diciamo per... I routes generali. E' uguale. E qui definiamo dei path. Il primo path che andiamo a definire... Path. Due punti. E' il global feed. Global. Virgola. Component. Sarà il nostro global feed component. Se invece il path sarà... Feed. E andremo a caricare il componente... Feed. Your feed component. Ok. Abbiamo definito questi due nuovi routes. Allora... Questi routes li vogliamo far funzionare... Soltanto all'interno della home page. Per questo li abbiamo settorializzati... All'interno della home page. Ora qui... In app routes dobbiamo dire... Quando... Quando sei sulla home page... Qui c'è un'altra property... Che si chiama children. E i children... Poi a prendersi... I routes... Home page. Quindi il componente sarà... Home page component. E i figli di route di questo componente... Saranno routes home page. Andiamo a salvare il tutto. Ora... In questo momento non succede niente. Se io qui scrivo... Global... Ho messo global, no? Sembra continuare a funzionare. Se io qui scrivo feed... In realtà... Carica la pagina... Ma non mi fa vedere uno o l'altro, no? Se vado a vedere il debug console... Non mi salta fuori niente. Quindi sembra quasi non funzionare. In realtà... Non funziona... Perché? Perché... Qui dove abbiamo definito... L'app global feed... Dobbiamo mettere... Un altro router outlet. Outlet... E lo andiamo a importare... Niente... Non c'è... Andiamo a importare a mano. Quindi qui... Andiamo a importare... Router outlet... Adesso... Cosa succede? Mi fa vedere global... Se io qui metto feed... Mi fa vedere feed... Come vedete... Praticamente... Mette... I componenti... Definiti nel child... All'interno di questo router outlet... E quindi cambia... Sulla base di dove sono... Sulla base del path... O uno o l'altro... Se io qui non metto niente... Non mi fa vedere niente... Perché? Perché non c'è un red arete... Quindi se qui... Nel nostro routes on pitch... Mettessi... Path... Due punti... Niente... Perché sono già... Nella path generale... Faccio un red arete... Tu... Esempio global... Andiamo a salvare... Mi dà un errore... Guardate un po'... Mi dà un errore... Ok... Perché mi dà un errore... Perché sono su un figlio... Quindi devo dirgli... Devo indicargli... Il path match... E nel path match... Io posso avere il full... O il prefix... Andiamo a mettere full... E come vedete... Torna a funzionare... Qual è la differenza tra il full... E il prefix... Il prefix è... Quando io ho un prefisso... Il full invece... Gli dico... Tutto quanto il path... Quindi adesso... Dobbiamo andare a modificare... Questo your feed... Global feed... Quindi... Qui... Mettiamo... Dobbiamo mettere anche... Router link... Vabbè... Come vedete... Anche su router link... Posso definire... Come navigation by command... Ok... Qui mettiamo... Questo qui cos'è... È... Your feed... Quindi feed... Ovviamente... Bisogna importare... Dopo le andiamo a importare... E qui ci mettiamo... Global... Magari se ci metto anche la... Prentesi quadra... Eccolo qua... Andiamo a importare... Anche... Il router link... Perfetto... Andiamo a salvare... E adesso... Se io clicco... Da una parte... E dall'altra... Vedete... Che... Funziona... Vedete... Carino... No... Ovviamente... È un po' bruttino... Perché... Intanto... Mi rimane sempre evidenziato... Il global... E... Anche se sono sul feed... Quindi dobbiamo andare... A modificare... Appunto... Eh... Le classi che vengono messe... Qui no... Quindi qui abbiamo... Questo disabled... Qui abbiamo... L'active... Come abbiamo visto prima... Che facciamo... Mettiamo... Router... Link... Active... Uguale... Active... E lo stesso... Facciamo qua sotto... Mh... Ovviamente... Lo dobbiamo andare... A importare... Salviamo... Salviamo... E adesso... Ta-da... Carino, eh? E quindi abbiamo fatto... La navigazione... Per pagina... Grazie.